che esistono il cui nome sembra quello di un videogame Poker Gen 2 ne parliamo con Pietro Carolla business manager di R4i benvenuto Pietro Carolla spiegaci esattamente come funziona questo progetto sostanzialmente Poker Gen 2 lo dice il nome si interessa di una dinamica di una problematica poco sociale poco utile diciamo in generale ma molto utile per quello che è un mercato molto interessante in Italia in Europa ma in generale in tutto il mondo che è quello del gioco del Poker Texas All Dem è un gioco che diverte non è un gioco d'azzardo perché in realtà in Italia amiamo chiamarlo Poker Sportivo e consiste in un gioco sostanzialmente dove i giocatori seduti a un tavolo da 10 persone si sfidano in un torneo fino a che non ne rimane uno solo per cui è molto appassionante attira molti giocatori ma anche molti non giocatori che amano seguire queste avventure dei propri beniamini anche dalle tv dalle radio da tutti gli strumenti multimediali i media in generale dalle web tv dalle web radio e quant'altro questo progetto nasce da una richiesta di un cliente che oggi è partner strategico insieme ad R4i di questo progetto per cui è nato un brevetto congiunto ed è Micro Game SPA un gaming service provider leader in Italia quinto nel mondo che doveva risolvere un problema cioè quello di gestire i dati durante un generico torneo di Poker Texas Soldem con milioni parliamo di valore ovviamente ma centinaia di migliaia di fish quindi di gettoni come questo sui tavoli da gioco e sapere in tempo reale quanti gettoni ogni giocatore avesse davanti a sé per giocare quindi per tentare la fortuna e quindi vincere un torneo che nel caso del World Series of Poker può arrivare fino a 10 milioni di dollari è ovvio che la tecnologia supporto ha dato quello che mancava al gioco tradizionale cioè quello di avere all'interno di ogni gettone un trasponder refeed in tecnologia UHF quindi in una tecnologia non standard per cui non soggetta a brevetti non soggetta a nessun tipo di monopolio sul mercato odierno e che potesse quindi dare in tempo reale il valore ed il numero dei gettoni che ogni giocatore ha davanti a sé per tentare la fortuna e cercare di scalare la classifica e fino a vincere il torneo la nostra soluzione permette di avere la classifica aggiornata in tempo reale da uno a infiniti tavoli da gioco presentare questi dati in tempo reale su tv tradizionali, web tv, web radio radio tradizionale e tutti gli strumenti multimediali che si vogliono utilizzare grazie a web services a servizi web tutto questo è stato possibile grazie all'impegno degli ingegneri di R4i e al grande know-how posseduto da microgame SPA nel generare un sistema che come ripeto non è un sistema proprietario e che garantisce quindi un utilizzo ad ampio raggio non solo in Italia ma non solo quindi in Italia e in Europa ma anche all'estero puntiamo infatti ad arrivare a fornire questa soluzione alle World Series of Poker che ha oltretutto un ottimo rapporto di partnership con microgame SPA bene, queste sono delle novità proprio per gli amatori del gioco online curiosità quanto tempo avete messo per mettere su questo progetto? in realtà il progetto è nato circa due anni fa come diciamo ha avuto nascita l'idea circa due anni fa ovviamente siamo arrivati a un prototipo il prototipo è stato presentato allenato alla fine del gioco di Rimini a marzo scorso e andremo in diretta al prossimo People's Poker Tour a Malta il prossimo 7 settembre quindi mi raccomando seguiteci sulla web tv di People's Poker in modo da vedere il tavolo e la tecnologia in azione una tecnologia ci tengo a dirlo completamente totalmente made in Italy costruiamo in casa il tavolo da gioco le antenne RFID abbiamo progettato il tag in casa e produciamo anche i gettoni in Italia per cui è una soluzione made in Italy tanto che sul tavolo da gioco ci saranno tante bandierine italiane proprio per far capire che non solo gli ingegneri non solo il know-how italiano ma anche il resto è importante far capire che il gioco non è soltanto a Las Vegas può esserlo anche qui in Italia giocatori di tutto il mondo unitevi seguite questo progetto questa iniziativa questa best practice proprio appunto di gaming online e ci vediamo fra qualche minuto col prossimo ospite grazie a Pietro grazie di essere stato con noi grazie a tutti Grazie.